Il fontefice lascia il Vaticano e attraversa rapidamente Roma tra il riverente omaggio della folla. Il sindaco di Castel Gandolfo alle porte della cittadina forge il devoto e filiale ossepio della popolazione. Anche quest'anno Pio XII passerà l'estate nel fresco centro dei castelli. Da tutta la zona è accorsa la gente ad acclamare il Santo Padre e a chiedergli la sua paterna benedizione. Tanto calore popolare tocca profondamente il cuore del Papa che appare commosso dalla testimonianza di affetto. Nel grande silenzio scendono quindi dall'alto del breve balcone le parole benedicenti. Poi la folla saluta ancora in gioiosa esultanza. Elisabetta d'Inghilterra e il principe Filippo in visita alle isole del canale della Manica sbarcano a St. Malheur, il porto di Jersey. E' la piccola figlia di un palegname a dare il benvenuto alla sovrana che riceve quindi l'omaggio dei più vecchi isolani. Fra essi due coppie già in nozze di diamanti. Al Garden Party del governatore duemila sudditi sono presentati alla regina. Le offrono il tradizionale brifo di latte. Alla fiera del bestiame è uno strano dono per sua maestà. La mucca più lattifera dell'isola. Si chiama Lady Melody e finirà nelle stalle reali di Windsor. Nel bacino del Sulcis, in Sardegna, la miniera più lontana dal mare è quella di Serugi. Il carbone di tipo pregiato viene avviato su un lungo nastro trasportatore alla prima fase di lavorazione. Le braccia dell'uomo sono sempre necessarie nel mondo delle macchine. Le robuste braccia di un minatore spezzettano col martello i blocchi più grossi. Frantumato, il carbone viene setacciato da un vibravaglio e va poi a finire alla laveria. Qui il minerale è lavato in basche e docce per pulirlo dalle materie sterili. Ridotto e selezionato in pezzature che vanno da un minimo di un centimetro a un massimo di otto, il materiale pronto all'impiego viene avviato ai grandi silos sul mare. La teleferica allunga oltre cinque chilometri provvede al trasporto diretto. Strada facendo viene riformita la centrale idroelettrica che dà luce e forza motrice alla zona di Porto Vesme. Questo carbone è particolarmente adatto agli impianti industriali di questo tipo. Ora il carbone è giunto ai depositi, pronto all'imbarco. La esilos tramite un elevatore passa attraverso il tubo telescopico che lo stiva nel capace ventre delle navi in attesa. È uno stivatore rotante che sostituisce la fatica degli scaricatori di carbone di un tempo. È un milione di tonnellate di minerale selezionato che segue annualmente questa strada. Va a rifornire centrali idroelettriche, cementerie, forni speciali, questo pregiato prodotto delle miniere sarde.